Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Il traffico si è regolarizzato dopo i disagi delle prime ore del mattino. Da 1 ricordiamo la chiusura dell'entrata di Firenze Sud in direzione di Roma fino alla mezzanotte di domenica 12 marzo. Per tutto questo periodo è attiva l'esenzione del pedaggio tra Firenze Sud e Firenze Impruneta verso Bologna per tutti e tra Firenze Impruneta e Firenze Sud verso Roma per chi arriva da Impruneta ed esce in Cisa, Valdarno, Arezzo, Monte San Savino, Valdichiana e Chiusi. La chiusura è legata ai lavori per la terza corsia. Siamo al trasporto pubblico locale Autolinea Toscana in forma dello sciopero di 24 ore proclamato per mercoledì 8 marzo. Il servizio sarà garantito tra le 4 e 15, le 8 e 14, tra le 12 e 30 e le 14 e 29. Può aversi in Toscana Impruneta un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.